Sono dell'idea che i partiti politici siano come le discoteche, cioè cambiano i nomi. Tu vai nel stesso posto con le stesse facce e alla fine cambia l'insegna. Ma qui c'era quella discoteca e sono sempre loro che hanno cambiato nome, che hanno cambiato gestione, che hanno cambiato PR, ma alla fine sono sempre loro con un'insegna diversa. I partiti politici sono le stesse identiche cose, cioè le stesse persone, le stesse facce, gli stessi credo, con dei nomi diversi. Quindi molto probabilmente anche, non so, per esempio il popolo delle libertà, fra un po' si chiamerà in un'altra maniera, discoteca Nautilus.